Anche la maggior parte del phishing arriva da alcuni paesi poco amici e c'è poco da regolamentare. A volte la polizia postale con cui peraltro collaboro fa tutto quello che può, ma le persone non hanno questa percezione, dicono ma perché non li bloccano, perché non li beccano? E' perché lavorano utilizzando strumenti potenti, alimentati dalla I, da stati lontanissimi. E allora è giusto regolamentare, dobbiamo però sapere che ci sono dei limiti, che sono proprio dovuti al fatto che viviamo tutti in un metastato, che è quello digitale dove consumiamo, compriamo, abbiamo amicizie e poi fisicamente in altri stati con regole diverse.